La balbuzia del principe, il futuro Giorgio VI, mirabilmente raccontate nel discorso del re, non erano solo le sue, ma anche dello sceneggiatore del film, David Seidler, che se n'è andato durante una battuta di pesca in Nuova Zelanda. Aveva 86 anni. Durante la cerimonia degli Oscar, che gli è stato assegnato, l'ha ricordato scherzandoci su. Tanti lavori da lui realizzati per il cinema e la TV. È però indubbio che il discorso del re, diretto da Tom Hooper e interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush e Eleanor Bolan Carter, è quello che lo ha coinvolto personalmente. Seidler, infatti, è nato a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale e fu costretto a emigrare negli Stati Uniti su un convoglio di tre navi. Una di queste trasportava prigionieri di guerra e fu affondata dai sottomarini tedeschi. In quell'occasione sviluppò la balbuzia. Aveva tre anni, un trauma di guerra. I genitori del giovane David Seidler lo invitavano a prendere esempio da Giorgio VI per i suoi discorsi, fino a quando, dopo aver più volte tentato di scrivere delle balbuzie del re, anche ostacolato dalla casa reale, riuscì a portare la storia sullo schermo, con quel finale memorabile. Questa grave, ora...